Grazie 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 Sicuramente grazie Ed è tutto per noi da adesso Ci dispiace Questo progetto è stato spento dalle restrizioni Da tutta la sua paura Quello che stiamo vivendo Però ce l'abbiamo fatta Nonostante tutto ce l'abbiamo fatta Spero di ringraziare Ciro che veramente ci ha messo l'anno Assolutamente sì Non è presente però Sicuramente Ho lavorato tanto Sì Il progetto è stato Sì Con la Puglia ti vaccina La Regione programma il calendario delle vaccinazioni anti-Covid Secondo fasce d'età A partire dai 79 anni in giù Non hai più bisogno di prenotare Per il tuo vaccino La data e il luogo vengono fissati in base all'anno di nascita Per confermare l'appuntamento devi solo aderire alla vaccinazione Come? È facile Ti serviranno solo codice fiscale e tessera sanitaria Collegati alla nuova piattaforma La Puglia ti vaccina Se la tua fascia di età è già attiva Se la tua fascia di età è già attiva Il giorno della vaccinazione porta con te la tua tessera sanitaria E se puoi il promemoria stampato e il consenso informato già compilato Il vaccino La miglior difesa è la scienza Il vaccino 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 Il vaccino